Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi come ogni venerdì vi porto il recap dell'apertura dei premi che abbiamo fatto ieri live su Twitch anche stavolta ne abbiamo trovate di tutti i colori, soprattutto sul mio account una sorpresa quindi che dire, io vi lascio alla visione del video e ci rivediamo poi dopo con i saluti alla fine Calmi, 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 non è successo niente, ho tolto la registrazione Numero 2 o numero 1, vedo una maggioranza di numeri 1 al momento, anzi no, vedo un numero 2 che prepotentemente va in sorpasso Apriamo il numero 2 o il numero 1 che... no, numero 2, numero 2, andiamo col numero 2 Allora qua, sto a chi mi parrebbe utilizzabile, sto Hummels vola invece nell'SBC, fondamentalmente è meglio Hummels da far volare nell'SBC Quindi non ci resta che l'1, ormai... quindi andiamo a shakerare per bene l'1 Cerchiamo di portare un po' di energia positiva, vabbè che poi qualsiasi cosa esca non è che insomma più di tanto possa tornarci utile 3, 2, 1... Ka... Mon... Ma Kimmich... direi che possiamo prendere Kimmich... beh... non sono andati neanche malissimo Ma va, sti pick, sto gabriel, sono contento, sti due... ma vabbè, diciamo poteva andare peggio ma poteva andare sicuramente anche meglio Detto ciò, spostiamoci a cannone sui pacchetti In maniera molto prepotente Andiamo ad aprire il primo pacchetto da 100 Che solitamente apro con questa switchatina epica Top Ti prego Come on, yay Sine Walkout Che roba è? Skriniar, oh my god Ma tu mi puoi droppare gli 86 il 21 maggio, santo cielo Non mi puoi droppare gli 86 il 21 maggio Vabbè, anche lui volerà probabilmente in qualche SBC Assieme a Koke, Martínez, ok, ok Tutto il resto lo mandiamo al club Questi li scartiamo in maniera molto molto rapida Andiamo sull'altro Sull'altro da 100 Ti prego, almeno Tots Almeno Tots Io solo questo chiedo Almeno Tots Dai, mamma mia Neanche Volca Italia Chi sei? Perin Sei Perin? No, sei Sirico Ancora peggio? Sei Ancora peggio Sirico Buttiamo fuori Uno Due Ok Questi li possiamo anche scartare tutti quanti in allegria E abbiamo I due ultimate non scambiabili Da questi si spera almeno di trovare qualcosina Di decent Quanto meno buono per l'SBC Stavolta apriamo il primo Ma prima abbiamo aperto il numero 2 Ma apriamo il numero 1 In maniera molto agile Spero che questa sia una carta nera e dietro ci sia qualcosa di interessante Ecco, era una carta nera Luca Sleva lo scartiamo Vabbè Fuori via tutto Questi possiamo scartare Cioè pacchetto ultimate mi ha dato un 84 Vabbè Andiamo avanti Andiamo avanti Non fa niente Noi non demordiamo Abbiamo scelto il contenuto Non a caso Non possiamo Fermarci ora sul Sul più bello Ti prego Ti prego Almeno Tots Almeno che lo possiamo riciclare in una sfida Che facciamo il pacchetto Bundesliga Se esce Tots Oh E Icon No Giorgio Agi no Ma Prime Moments E Agi fucking Prime Moments Cosa sto vedendo Agi Prime Moments Non scambiabile Dai Ma dammi qualcosa di utilizzabile E' la mia prima Icon Prime Moments Della vita però Dai Che peccato Me la poteva dare Scambiabile Su Agi Prime Moments Vabbè Quanto costa Vabbè Dai Però simpatico Almeno Vabbè Dai Ci sto Ci sto Lo accetto Lo accetto Lo accetto volentieri Sto Agi Prime Moments Su Quella soddisfazione di averlo trovato Per la soddisfazione di averlo trovato Ma adesso Time To Bloody Shine Perché abbiamo Due Big Boys Dai quali dobbiamo cercare di monetizzare il più possibile Perché con questi Possiamo andare a rifondare la squadra Io me li vado a shakerare lateralmente E vado ad aprire il numero due Già lo so Perché il numero due ha portato fortuna Adesso con questo Agi Nei denti Quindi io faccio questa rapida shakerata E mentre shakero dico Cinque Quattro Tre Due Come on Please Please yay Please Devo fare crediti Ti prego Ti prego Some credits No Fommermi Ma questo lo trovo ogni anno E' una persecuzione Una persecuzione Sotto non ci può essere manco niente di buono Ma Mamma mia Che amarezza Che amarezza Che amarezza Che amarezza Dai Io li che mi facevo tutti i sogni Troveremo qualcosa di buono Compro Cruif Prime Moments Questo Quell'altro Su Dai Non ci credo Non ci credo Dai Lo apro così Tanto mi da un altro song Oh my god Pensavo che era Royce Pensavo che era Royce Ho sognato Royce Per un attimo Ho sognato Royce Sognando Royce Vabbè dai Quattrocentok Magari c'è qualcosa di buono sotto eh Inutile che godete Eccolo Davis Pulito Cavolo How much Dai Un milioncino L'abbiamo fatto da questo Pulito 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 Dai Dai Questo non è andato malvagio Not Not bad Dai Un milione di spari Li abbiamo fatti Abbiamo l'apertura di questo fantastico Elite 2 Di Hortense Quindi Un pacco con 3 tots 3 pick E Un pacco da 100.000 E' convinto del 2 Lo vedo Aggressivo sul 2 Lo vedo bello shakerante Eh no no Lo sta proprio Scuotendo All'ennesima potenza Tipo lo champagne A capodanno Eh 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 Müller Che sembra che insomma Gli stiano facendo del male Ma forse prendere il tecatito Da super sub Non saprei Onestamente No Invece opta per Per Müller Ah shaker anche Müller Per non sapere né leggere Né scrivere Mamma mia Pizzi Tra l'altro sto Pizzi male male Non è Shakerata tattica Anche sull'1 Eh brutti 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 Devo dire la verità Brutti Prenderei Rafa A questo punto Che male male Non è Però veramente brutti Picchetti di Hortens Vediamo se nel 3 tots Riusciamo a redimerci Ah c'è anche le Rivals Aspetta che dalle Rivals Può succedere Qualcosa di Di inaspettato Bene Intanto mi arrivano Convocazioni Fuori al balcone Tra un minuto Vabbè insomma Sto pacchetto Era pure bypassabile Ciao Ciao Jfra Bene Abbiamo i due pacchi Da 100 Neanche walk out Beh Neanche walk out Questo chi è? È Jovic No Tadic Dai Hortens Ce la puoi fare Io credo in te Io credo in te Tu con molta prepotenza Vacci E fidati che qualcosa Di positivo succederà Beh Un Mothm che 10k Te li fa fare Still Mothm Still Sarabbia Che fa con Jordi Alba Aggiungi obiettivi di mercato Attenzione Massive glitch Ah ok Ho capito tutto Ho capito tutto Massive glitch Per Hortens Non lo so che conto si sta facendo Nella sua testa E' partuto E' partuto Non voglio leggere la chat Perché lui puntualmente Spoilera Eh Unlucky 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 Eh Upameka Dai Upamecano Decent Quanto costa Upameka Dai 300k Puliti Su Poteva andare meglio Però a sto punto Poteva andare pure peggio Raguino Cosa ci regala Eh Massive Littuno Pernello Angelino Pinguino Culino Mamma mia Che try harder Ma Magliette di Lazio E Roma Per lui Eh Già so che sta per arrivare La mossa del secolo Ormai L'abbiamo capito Come funziona Vai vai Prego Ecco qui Va bene Addirittura La mette come maglia principale Va bene E apre Unmels Nei denti Primo pick Beh No che fa Va su Pizzi Ci pensa Eh Prende Unmels Attenzione Ancora Unmels Mi sa che la maglia Che la Roma torna giù No Massive Shakerata Bene bene Godo Pinguino Godo Giusto così Però l'ultima volta ci ricordiamo come è andata a finire Va bene va bene Pinguino Non si preoccupi Prego Scarti pure la maglietta della Roma Non è un problema Vediamo Vediamo nei pacchi Che cosa ci riserva Addirittura pacchetto oro per lui Un pacchetto da 5k Non lascia niente al caso Ecco Ovviamente Non è che insomma ci aspettavamo grandi cose Un altro pacchetto da 5k Ha deciso di aprire tutto Schippa Non lo vuole vedere Eh Ben Tancur Che magari dopo sarà Attenzione Scartato Oh my god Non ce la posso fare Che personaggio Pinguino Pacchetto giocatori euro premium Niente da fare Però raga Piano ad esultare Con Pinguino Che l'altra volta Ce l'ha messo nel sacco Quando Pensavamo di averlo sconfitto Non so perché si è soffermato Su questo Fantastico esemplare Di Nizza Ecco Va bene Andiamo avanti Altro pacchetto Giocatori euro premium Che appunto da questi Non è che solitamente Esca questo gran che Tipo po' di roba E infatti anche qui Niente da fare Però Stiamo arrivando ai big boys Abbiamo due pacchi da 100 Due pacchi da 3 tots Insomma Del contenuto importante Pinguino che non scarta nulla Non ne vuole sapere niente Eccolo qua Primo pacco Mothm Stil Mothm Chi è? Va bene Dai insomma 10k con una carta a scarto Che non si butta Lui se la tiene addirittura Ecco Rabetuenza Chevo solo io Infatti sembrava strano Va bene Secondo pacco da 100 Esce dal mercato Esce dal mercato Rientra Cerca di Sbaggare la situazione Le tecniche segrete Che gli hanno insegnato I monaci Shaolin In Tibet Un altro Un altro Mothmoth Eh Still Mothmagen Sempre lo stesso Sempre lo stesso Giusto così Oh intanto 20k se li è fatti Con sti Mothm Niente Non lo scarta addirittura Lo manda in lista trasferimenti Conscio del fatto di poterlo addirittura vendere Attenzione Vediamo che cosa sta per combinare il pinguino Che fa? Perché? Sono perplesso Vabbè lui Fa un'intensa opera di scarto maglie Potrebbe essere il glitch definitivo questo Va bene pinguino Penso che puoi anche procedere all'apertura Così subito Senza neanche pensarci tanto Lui va A cannone Akimi Giusto così Giusto così Il più alto 91 Bene 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 Primo pacchettino con Akimi, Interregger e Serdar Però non cantate vittoria raga Non godete Non godete Perché pinguino è l'uomo delle mosse dell'ultimo momento Quindi state attenti a godere Ricordiamoci l'ultima volta come è finita Guardate qui Sta buildando un massive glitch Sta aspettando le luci E apre E' partito pinguino Attenzione Battaglione Francia DC E' un pamecano Still Però Penso che insomma Pinguino si aspettava qualcosina di meglio Diciamo che con questi 6 tots avrà fatto circa 600k Insomma 700k Nel frattempo Da una bella shakerata Per questo Elite 1 No No Stavolta Olli non interferirà C'è una maggioranza di 3 Quindi direi di andare ad aprire a cannone il 3 Dopo averlo shakerato per bene Eh direi Bene Vediamo Vediamo se prendere un mezzo Gabriel Vediamo cosa sceglie Il buon Bombertino Gabriel Perfetto Scelta saggia È giusta Poi direi di andare ad aprire il 2 A scaletta 3 2 1 Boom Esplode tipo lo champagne Eh dai Müller Non male Il buon Thomas Da qui Dobbiamo fare la differenza Qui E' il momento di Shineare Come on EA Dacci qualcosa di utilizzabile Almeno Su Facci Facci godere un po' Anche a noi Come on Oh Markolino Royce Proprio lui Eh ragazzi Manine d'oro Per Riberoski Manine d'oro Arriva sempre il momento In cui Riberoski Caccia il coniglio Dal cilindro La magia Il Marcolino Royce Nazionale Bene Ma non è finita qui Perché abbiamo i pacchi Abbiamo due pacchi da 100 Più due pacchi Con tre Toz Vedo anche altri pacchi Farmati Quindi Direi di partire da Stomega Partiamo leggeri Per poi Andare su quelli più gustosi Però è buono No niente Lavagna La Schippiamo Niente Vediamo che cos'è Abbiamo anche un pacchetto Contratto Diego Costa Stragoscia Lo possiamo anche scartare In scioltezza Andiamoci ad aprire Sto pacchetto Contratti Che non lo voglio Tenere davanti Va benissimo Perfetto Andiamo ad aprire Il pacchetto Da 50 Voilà Vediamo Buono Oh Toz Toz Chi è? Ruben Dias Questo Eh non male Costa poco Però questo non è malvagio Lo sto usando Su Road to Glory Vabbè certo Non sarà da utilizzare Però Still walk out Still toz Vediamo se c'è pure qualcosa sotto No Dimmi che è scambiabile Perfetto Vabbè dai Almeno è toz Poi abbiamo questi due big boys Da 100 E i due big boys Tre toz Vedevo lì che c'era un Ramos Vuole comprare Ramos Forse il bombo Bertino Quindi Dobbiamo riuscire a tirar fuori Una buona dose di credit Da sti pacchi Vediamo Niente Lavagna purtroppo Arrivederla Bene Andiamo avanti Ad aprire il Secondo pacchetto Da 100 Let's go Sperando che questo Sia qualcosa di decente No niente Sempre lavagna Purtroppo Però abbiamo i Sei toz Nei quali andiamo A colpire Bene Questi li possiamo scartare C'è anche un Radu Selvatico Perfetto Qui Tocca fare la magia Qua Tocca fare la Shakerata laterale Che tante gioie Ci ha dato in passato Shakerata laterale Di quelle che contano Di quelle Importanti Come on Che succede? Cos'è questo glitch? Ok Non lo so che cosa è successo Potremmo aver trovato Il glitch della vita O aver fatto Una grande boiata Attenzione Walkout Germania No Gintera No Un saluto Al nostro amico Gintera Ti prego Dammi almeno Davis sotto Per favore Ma cosa Dabbi Ginter Per cortesia Che non ti conoscono Neanche a casa tua Ecco Dai Davis Ha salvato La situa Davis Ha salvato La situa Su Di sento Devo dire la verità L'abbiamo salvato Sto pacchetto Poteva essere il pacchetto Peggiore della secolo Invece L'abbiamo salvato L'abbiamo salvato Quanto meno con Davis Quindi sto pacchetto Almeno un 600k Le abbiamo tirati su Sarà difficile fare peggio Con quest'altro Ecco Le ultime parole famose Però Andiamo Come on Come on Come on Su Bombertino Per coronare Per coronare Questo pack opening Almeno Un I Grated Per favore Per vedere Se c'è qualcosa Sotto E no Ma allora Sei stronzo Ah no Unmels Ok Va bene Unmels Ci posso stare Perché ci potrebbero essere Delle cose Golose sotto Lo stesso Unmels Non è che costa Proprio poco Potrebbe essere Interessante No Niente Male male Akimi E Radecki Però diciamo Che un milioncino Con tutti e due i pacchi Ce lo siamo portato a casa Che non è male Sicuramente Ramos Te lo riesce a prendere Vediamo la squadra che Ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Come avete visto Anche stavolta Abbiamo trovato Tutti e di più Quest'ici Prime moments Sul mio account Un po' esotico Non scambiabile Quindi purtroppo Me ne ce farò Ben poco Quando avevo visto Luce bianca Ho detto E prego Fa che sia buono Fa che sia buono Boom Romania Subito mi ha spezzato I sogni Però Non ci possiamo lamentare Anche qualche picchetto Goloso Qua e là Vari Royce Eccetera Quindi Anche stasettimana Abbiamo fatto il nostro Noi ci vediamo ogni giorno In live su Twitch Dalle 12 alle 16 E ci ribecchiamo Prossimamente sul canale Con un prossimo video Bella